Tempo di purificazione per svuotare se stessi, undicesimo giorno, dal compendio di teologia ascetica e mistica di Adolfo Tanqueré. I vizi capitali. La gola. Rimedi alla gola. Il principio che deve guidarci nella lotta contro la gola è che il piacere non è fine, ma mezzo, onde deve essere subordinato alla retta ragione illuminata dalla fede. Ora la fede ci dice che dobbiamo santificare i piaceri della mensa con purezza di intenzione, sobrietà e spirito di mortificazione. 1. Prima di tutto bisogna cibarsi con intenzione retta e soprannaturale, non come animali che cercano solo il piacere, nemmeno come un filosofo che si accontenta di un'intenzione onesta, ma in quanto cristiani che si nutrono per meglio lavorare alla gloria di Dio. 2. In spirito di riconoscenza alla bontà di Dio, che si degna darci il pane quotidiano, per questo è cosa lodevole ringraziare sempre il Signore, prima dei pasti. 3. In spirito d'umiltà, pensando con San Vincenzo de Paoli, che non meritiamo il pane che mangiamo. 4. In spirito d'amore, adoperando le forze che ci vengono dal cibo al servizio di Dio e delle anime. Adempiamo così la raccomandazione di San Paolo ai primi cristiani, che in molte comunità viene richiamata al principio dei pasti. Sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto alla gloria di Dio. 2. Questa purezza d'intenzione ci farà mantenere la sobrietà, ossia la giusta misura. Volendo infatti mangiare per acquistare le forze necessarie all'adempimento dei doveri del nostro Stato, schiveremo tutti gli eccessi che ci potrebbero danneggiare la salute. Ora, dicono i nutrizionisti, la sobrietà o frugalità è essenziale condizione del vigore fisico e morale. Mangiando per vivere dobbiamo mangiare sanamente, per vivere sanamente. Non bisogna quindi né mangiar troppo né troppo bere. Bisogna levarsi da mensa con sensazione di leggerezza e di vigore, restare con un po' d'appetito e schivare la pesantezza per eccesso di buona tavola. È però bene notare che la misura non è uguale per tutti. Vi sono temperamenti che, ad esempio, per ragioni di salute, esigono più copiosa alimentazione. Altri, invece, sempre per ragioni di salute, devono moderare l'appetito. Ognuno, quindi, s'attenga in questo ai consigli di un saggio medico. 3. Alla sobrietà, il cristiano aggiunge altresì la pratica di qualche mortificazione. Essendo facile sdrucciolare sul pendio e concedere troppo alla sensualità, è bene privarsi, talora, di qualche alimento che piace, che sarebbe anzi utile, ma non necessario. Si acquista così una certa padronanza sulla sensualità, sottraendole alcune legittime soddisfazioni. Si svincola l'anima dalla servitù dei sensi, le si dà maggior libertà per la preghiera e per lo studio, e si scansano molte tentazioni pericolose. Ottima pratica è l'abituarsi a non prender pasto senza fare qualche mortificazione. Meglio ancora se non lo si fa notare agli altri commensali. Queste piccole privazioni hanno il vantaggio di rinvigorire la volontà senza nuocere la salute, e possono quindi essere complementari per chi lavora alle mortificazioni più importanti, come il digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì, o altri giorni penitenziali o altre forme di digiuno, che andrebbero sempre fatte con l'accordo del direttore spirituale. Le anime pie vi aggiungono un motivo di carità. Si lascia qualche cosa per i poveri, e quindi per Gesù, che vive nella loro persona. Però, come osserva bene San Vincenzo Ferreri, ciò che si lascia non deve essere cosa di rifiuto, ma boccone scelto, sia pur piccolo. Ed è pure buona pratica abituarsi a mangiare un po' di ciò che non piace. Tra le mortificazioni più utili, ricordiamo quelle delle bevande alcoliche. Richiamiamo su questo punto alcuni principi. a. In sé, l'uso moderato dell'alcol o delle bevande alcoliche non è un male. Non si possono quindi biasimare i laici o gli ecclesiastici che ne usano moderatamente. b. Ma l'astenersi per spirito di mortificazione o per dar buon esempio è certo l'odevolissima cosa. Quindi certi sacerdoti e certi laici si astengono da ogni liquore per dissuaderne più facilmente gli altri. c. Vi sono casi in cui tale astinenza dall'alcol è moralmente necessaria per scansare eccessi. 1. Quando per una predisposizione ereditaria ci si accorge di avere una propensione alle bevande alcoliche. anche il semplice uso può allora generare una quasi irresistibile inclinazione come basta una scintilla per suscitare un incendio in materie infiammabili. 2. Chi avesse avuto la disgrazia di contrarre inveterate abitudini d'alcolismo il solo rimedio efficace ne sarà allora l'astinenza totale.